Musica Amici di Attisport 24, benvenuti ad una nuova puntata di 2 metri da pallannuto vista da vicino. Abbiamo il grande piacere di avere oggi insieme a noi per occuparci delle vicende legate all'Actis Acqua Chiara il difensore bianco-azzurro Alessandro Gargiulo. Ciao Alessandro, benvenuto, grazie di aver accettato il nostro invito. Un piacere mio. Partiamo dalla più recente attualità, l'ultima partita, il match ben giocato e purtroppo sfuggito per qualche dettaglio contro la Copral Muri Antichi lo scorso sabato. Con quali indicazioni avete archiviato questa sconfitta? La partita è stata archivata con grande amarezza da tutta quanta la squadra, da tutti quanti i ragazzi e anche dall'allenatore. Dopo due sconfitte precedenti credevamo che la terza sarebbe arrivato e ci saremmo meritati un risultato, ma così non è stato. Ma subito dopo la partita, il tempo di uscire dallo spogliatoio, Walter ha subito tenuto a parlarci e a incitarci per le prossime partite, per non demoralizzarci, per continuare a lavorare perché, come ha detto lui, la prestazione non è casuale e la prestazione che abbiamo mostrato è di ottima qualità, come dicono tutti. Certo. Che cosa che secondo te vi è mancato in queste ultime uscite, lo hai sottolineato anche tu, penso alla partita col Cusso, anche a larga parte del confronto contro il circolo Canottieri-Napoli per portare a casa poi quei risultati che avreste sicuramente meritato? Dire la finalizzazione in porta è facile, perché quello che manca sono i gol, sono le occasioni mancate davanti alla porta, ma sono tante le cose che però sono tutte quante facili da correggere, sono piccoli errori in difesa, piccoli errori in attacco, su cui lavoriamo ogni giorno per correggerli. E abbiamo voglia di far vedere su cosa stiamo lavorando, come l'abbiamo corretto e che siamo pronti per avere i risultati che ci meritiamo. E mi viene spontanea anche la provocazione. I risultati negativi, diciamo in serie, potrebbero abbattere chiunque. Allora la domanda è questa, ci credete ancora alla conquista della salvezza? Ci crediamo tuttora, ci credono tutti. E sarebbe grave se non ci credessimo, perché il nostro morale deve rimanere alto. Quali sono secondo te gli aspetti del gioco su cui questo gruppo può migliorare? Prima hai sottolineato quelle che sono le mancanze che non vi hanno aiutato nel trovare i risultati che avreste potuto tranquillamente portare a casa, quindi se rovescio la medaglia sono tanti anche margini di crescita. Certo. Secondo me si deve instaurare, dobbiamo lavorare e possiamo migliorare su una maggiore fiducia tra tutti quanti noi, sia da allenatore che tra noi ragazzi, che è già presente, ci conosciamo tutti bene e lavoriamo bene assieme, ma la fiducia tra di noi può crescere ancora di più, senza alcun dubbio. Sei al primo anno di esperienza in Serie 2, sei reduce dal prestito alternativo l'anno scorso in Serie B con la calottina dell'Ischia Marine Club. Quest'anno ti è stata concessa l'opportunità di indossare la calottina bianca-azzurra della prima squadra. Come hai ricevuto la notizia e cosa hai provato quando te l'hanno detto? Ma è stato molto bello, è stata una situazione molto combattuta giù all'acqua chiara, perché poi i nomi non si sono saputi fino all'ultimo. Anche con l'inizio del campionato si è continuato a parlare, si è continuato a girare tra di noi, e si continua a fare, però l'emozione è stata forte, sicuramente. Certo. Si torna in acqua e quella forse è la cosa migliore per poter riscattare le sconfitte e per poter rimettersi nuovamente in discussione. Sabato, nuovamente alla Scandone, la sfida contro la Rarinantes-Sori. Che tipo di partita ci possiamo immaginare? Una partita sicuramente in cui tutti troveranno la stessa cattiveria che abbiamo avuto nelle tre partite precedenti. Oggi sono proprio ora di corsa per andare ad allenarmi e lavorare per la partita di sabato. E l'obiettivo è vincere. Non abbiamo paura di farlo. E per riuscire in quello che tu hai appena detto con grande convinzione, perché bisogna darti onore della tua convinzione e della stima nelle tue e nelle capacità dei tuoi compagni e del tecnico, quali saranno i fattori decisivi? Che cos'è che deve fare l'acqua chiara per uscire dall'acqua con il successo? Quello che abbiamo fatto, sempre quello che abbiamo fatto con la nostra unica vittoria, è entrare con la grinta e non finire ad appoggiarci sulla loro al terzo tempo o appiattire il nostro attacco, la difesa. Essere sempre grintosi come lo siamo al primo tempo. Hai detto che fino ad ora abbiamo centrato un'unica vittoria nel torneo. Caso strano è contro la squadra che arriverà sabato alla Scandone. Aver vinto all'andata a Camogli contro la Rarina Antessori è un vantaggio? O se ci pensate troppo potrebbe essere un boomerang? Le aspettative sono tante perché il risultato deve essere come quello dell'andata. Se siamo riusciti a vincere fuori casa dobbiamo dimostrare di essere capaci di farlo anche in casa. No, credo che questo non sarà un boomerang. Chiudiamo con un'ultima battuta. Quanto sarebbe importante conquistare il risultato positivo? Sarebbe importantissimo per il morale della squadra. Sarebbe importantissimo per il morale di tutti, per capire che non dobbiamo arrenderci come ancora crediamo ora. Va bene, siamo così al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Alessandro Gargiulo per averci fatto compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Alessandro, grazie. Ciao.